Dopo una notte di ricerche ci ritroviamo qui ad aggiornarvi sul rapimento del noto attore Jerry Calà. Oh madonna! È uno scherzo, vero? Lui ci salverà. Perché dobbiamo rapire Jerry Calà. Metti questo in testa. Oh, oh, oh! Zitto! Adesso ho capito, voi siete una specie di scherzi a parte dei poveri. Eh, sì, sì. Aiuto! Il rapito è mio! È mio! Io voglio fare questo appello ai rapitori di Jerry. È una brava persona, è un uomo buono, un po' birichino, magari. Jerry Calà sta scappando! Jerry! Veramente geniale l'idea del sequestro, eh. Noi abbiamo Jerry Calà. Non le rimane che pagare il riscanto. Tenete però che me ne ha fatte di tutti i colori. Vabbè, ma non è se a Jerry ha. Mio padre è un taccagno. Sto chiamando. Io voglio Jerry vivo, sano e sano. Adesso vado di là, che gli taglio un orecchio. Basta! Rino! Oh, c'è posta per noi! Aiuto, sono Jerry Calà. Oh, Jerry Calà! Oh! Jerry, dove sta Jerry? Ma noi ci conosciamo. Jerry Calà! Ho saputo che se ricerì in questa città. Tra Ciro e Mercellino fino a Sanità. Con uno capo non teneva niente a fare. S'ha una rubata, Jerry Calà!